eccoci qua eccoci i personaggi dai facci film i nomi e scendi Pippo io e Pippo figlia vai 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 Pippo facci vedere come sto film va qua che bellezza che bellezza vediamo il nano che si muove si destreggia facciamo una discesa insieme l'hai fatto a tutti? a tutti anche a Pippo? che Pippo era un colpo di lezione ha detto guardate qua che i miglioramenti ci sono stati si è applicato si applica la fa il disinvolto fa il disinvolto lo antica della camera raffè disinvolto guardatelo guardatelo sto facendo delle riprese mentre sci tipo documentario il documentario siamo qui dai venimi dietro aspetta aspetta sta agghiacciando la mano guarda che ci siamo stai registrando che abbiamo fatto allora dici dove vai guardate come è in casa signori si casa guarda io lì oh 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 tutto ripreso tutto documentato come tutto documentato ci abbiamo su youtube su youtube certo ok facebook facebook poi non lo posso vedere eh devi registrare ora 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 a me non mi riprende mai nessuno ah qui vai vai guardate guardate guardatemi guardate guardatemi la mia faccia tesa uuuuuh che spettacolo dai uuuuuh uuuuuuuuh uuuuh uuuuh che vista è uuuuuh Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì.